Salve a tutti e venuti in un nuovo video, in questo video vi porto Among Us Prima di cominciare il video vi dico di iscrivervi al canale e lasciate un like E adesso partiamo con il nostro video di su Among Us Allora, adesso abbiamo due impostori No, a sette parti Prima di tutto controlliamo se noi troviamo qualcosa No Non 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 Escappa Immaginavo No Vediamo Quindi Nessuno Ah, hanno scappato Ragazzi loro hanno scappato No No Già me ne vado Fate voi Qui Quello che dovete fare Eh Per il tempo non c'è nessuno E abbiamo sempre un solito problema Con questa carta Me ne vado Me ne vado Ma cosa? Basta Ma chi? Ragazzi a me sembra di più questo qua, Barbie Sì Vediamo il risultato Nessuno Dai Dai Volevo fare io l'impostore No 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 Ma cosa? No No Non è lui Volevo fare io l'impostore Volevo fare io l'impostore Volevo fare io l'impostore Volevo fare io Volevo fare io l'impostore Volevo fare io l'impostore Guardiamo Ma I è insomma io no va bene abbiamo andiamo no meglio che me ne vado da lì no è saltata la corrente comunque no lo immaginavo lo immaginavo che succedesse questa cosa mettiamole fuori dentro il cestino mettiamo fuori dentro il cestino e comunque sente signore gli scriverà ma fa la magia sono morto guardiamo nessuno allora ragazzi ho saltato quella partita me ne vado me ne vado mi scappa no no che pericolo forse da questa parte no 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 non seguirmi meglio non mi seguite aiuto come se no non 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 so come si dice skipata ma no meglio meglio che sono ma cosa sta succedendo cedendo 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 allora forse domenque ragazzi ragazzi non capisco dove andare e come sempre qualcuno muore ragazzi guardami il risultato oh fortuna abbiamo vinto vediamo dai voglio fare io l'impostore meglio meglio non devo aspetta è ben finita ma cosa aspetta è bene me ne vado subito subitissimo subitissimo me ne vado interessante ecco vediamo non è schippata ragazzi l'impostore non è per basta con no non è non è no non è non è ma aspettate che qui si sta per che devono votare a me ecco ecco ragazzi cosa ti stavo dicendo prima che che se tu vuoi prendere un impostore non è tanto facile ma dove cosa vediamo vediamo perchè sempre perchè loro sempre schifano non lo so non lo so capir Ho fatto una volta il boom Ragazzi La fortuna La fortuna Una cosa c'è Va bene Beh, beh Eh, cosa Nessun No, si siamo in attes Adesso si siamo in tre Quindi abbiamo già capito Che sono uno di loro L'impostore Cos'è? Eh Eri tu Tu, ma Ragazzi, ma ragazzi Pensate che forse Quello che sei vestito da pirata Comunque lasciamo stare Se Per oggi concludo Concludo quel video Se vi è piaciuto lasciate un like Iscrivetevi al canale E ci vediamo nel prossimo video Ciao